E con il Pasquale di Ponte, 2 ultimo di Ponte, 3 Secondo buon reagente e morte. 4 Secondo prepudente si è affettata con questo modo diciamo di diverso. Questa generazione è una generazione che non va, e sa che non è un segno, ma non è stata data un segno, che non è un segno di Roma, poiché come Roma fu un segno per i primi libri, così anche il figlio di luogo non sarà la presa generazione di loro. Nel donno di Cristo, per il mio Dio, il mio Dio di Succhi, si altera il corpo, il mio Dio di Succhi e il mio Dio di Succhi e il mio Dio di Succhi, perché la fede del Succhi e il Dio di Succhi e la Succhi e la Pagienza, la Sabienza divina. il primo e un grande sacerdote il peorlo del giudizio e alberante di l'inversità di l'amore come lo dice il primo e il peorlo è la punta dell'amore perché è andato e il servizio di tutto si convergono ed ecco qui e un uomo di l'amore allora del Signore e un grande amore e un grande amore in due di Dio quello che è importante è la nostra conversione e per parlare di conversione dobbiamo parlare di di coscienza che capisce che in grande scoprire il male che possiamo poter nella nostra vita Dio è il padre di tutti gli uomini non del popolo vero non del popolo che si ha cercato per essere Dio è il padre di tutti gli uomini e Dio insegna dell'esercizio la via russa la via età il Dio insegna e gli uomini che tutti gli uomini e i suoi figli facciano una cammina nel cammino di sicuro di sicuro ma Dio sapere che l'uomo è dentro di sicuro di sicuro di sicuro che l'uomo riesce a fare un cammino di un cammino di di sicuro è qui che si rivela la cammino dell'amore di Dio è qui che Dio ci manifesta a questa conversione con il suo cuore pur che non sia un cammino dal suo peccato si e questo è l'intenzione delle leggi il nire viene mandato a un compagare i niri ascoltano giurano e si mupe perché si prendono il nire è salto e Dio non accetta il dirige che non è la ma accetta nuovo e il dirige alla pretensione di di giornale un profeta più i limiti assicurati capissero che il modo con cui vogliono risorgliare è anche la si comprono di sede si vestono di santo e il centro della penitenza che realmente si ma penitenza è siccome ma come bene ci sono tanti che noi non possiamo che noi non possiamo sapere che quando Gesù ci viene in non possiamo conoscere il cuore che sa o che faria anche quando l'oncino di tal come l'oncino per convertir lo di amo anche quando pensi viense che viense città anche loro noi Noi dobbiamo overfessi. Anche allora noi dobbiamo cambiare. Ognuno di noi congine il suo sacco e se lo trova il strato di peccato, si avvertà la vita. Grazie per la visione.